Valdichiana, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a Giardino Valdichiana e benvenuti alla quarta puntata della quarta edizione di Giardino Valdichiana. Sempre qua alla villa di Leonardo, in questa bellissima villa che ormai ci stiamo passando tutte le nostre vacanze estive, al confine tra Sinalunga e il comune di Trequanda. In queste puntate precedenti vi abbiamo parlato appunto di storia, di geografia, dei misteri che racconta il nostro territorio e una bella realtà che vi vogliamo raccontare oggi ha anch'essa la sua storia. Ed è venuta qua a raccontarcela Danila Lorenzini, psicoterapeuta, autrice del libro Una mamma per amica. Questo libro è stato fatto, la casa editrice di questo libro è la Fondazione Torrita Cultura con la collaborazione della BCC Valdichiana. È un libro particolare perché parla di un tema che potrebbe essere all'ordine del giorno ma che intorno al tema di questo libro ci sono tanti pregiudizi. Allora Danila, in questo libro tu racconti, parli insieme ad altre persone, che ci andrai anche a spiegare chi sono, dell'allattamento al seno. Giusto? Sì, allora intanto grazie di questa opportunità. L'idea di scrivere un libro su questo argomento è nata alcuni anni fa e nasce dal gruppo delle peer counselor Valdichiana. Sono un gruppo di mamme volontarie per l'allattamento al seno che si occupano di aiutare le mamme che chiedono aiuto quando ne hanno bisogno e soprattutto perché magari vittime di alcuni pregiudizi ancora molto comuni nel 2019, anche se alcuni sembrano addirittura comici, per quanto sono strani alcuni di essi, ed è nata quindi l'idea di parlare dell'allattamento al seno che è un'azione così naturale e così spontanea solo a parole perché poi di fatto spesso la donna in un momento di fragilità si trova comunque a dover fare conti con alcuni pregiudizi. Quindi ho pensato di parlare di questo argomento citando 25 pregiudizi e cercando di rispondere a questi pregiudizi con la collaborazione di alcuni medici che hanno supervisionato quindi le varie verità, quindi le risposte ai pregiudizi e attraverso le illustrazioni di Riccardo Carrai che ha collaborato con me nella stesura di questo libro e nel trovare un'immagine per ogni pregiudizio. Per ogni pregiudizio lui ha scelto un mammifero, questo per sottolineare il carattere naturale e spontaneo dell'azione dell'allattamento al seno. Quindi nasce così l'idea. Per prendere forma ci ha messo alcuni anni, 8 anni, però adesso siamo soddisfatti del risultato perché finalmente siamo riusciti a portare a termine un progetto che secondo noi era importante anche per lasciare qualcosa di scritto e anche affinché la donna in gravidanza possa magari prima di arrivare al parto avere una giusta informazione su questo che appunto ripeto dovrebbe essere un'azione molto naturale ma che spesso di fatto poi non lo è. Ecco, 25 pregiudizi. Ne avete raccolti molti, come dici tu. Qualcosa che deve essere naturale ha ancora avvolto, intorno ci sono tutti questi pregiudizi. Ce ne vuoi dire qualcuno? Non tutti e 25 perché altrimenti leggiamo il libro. No, altrimenti facciamo una lezione magistrale. Però qualcuno in particolare che ha colpito anche voi. Il pregiudizio più comune, che forse vale la pena sottolineare, è quello che praticamente dice che l'allattamento al seno dopo un po' vizia il bambino. Quindi l'allattamento prolungato dovrebbe poi dopo vizia, diciamo, allattare per troppo tempo il bambino lo vizierà e quindi il bambino diventerà dipendente dalla madre, non si staccherà mai più, ancora a 18 anni sarà sempre lì attaccato alle sottane della madre. In realtà questo è un pregiudizio che è un pochino indiretto, forse leggermente si insinua un po' nella mente e nell'opinione della donna e della mamma, in questo caso. Perché diciamo che si basa sul fatto che il bambino va allattato, il neonato va allattato i primi mesi e poi dopo un po' comunque va reso indipendente. La verità è che il bambino cerca anche conforto, cerca un nutrimento che va oltre il nutrimento fisiologico, quindi il cibo ed è molto importante proporre al bambino una base sicura, affettiva, proprio affinché poi dopo se ne possa volare dal nido. Quindi diciamo che citando una famosa frase di Hellinger si potrebbe dire che senza radici non si vola, quindi il punto è proprio che il neonato cerca conforto e cerca nutrimento anche affettivo e l'allattamento fa questo, non è solamente il dare nutrimento fisiologico, quindi proporre cibo. E poi ce ne sono tanti altri, un altro dei più comuni è che il latte dopo un po' diventa acqua o che comunque non è abbastanza nutriente, perché noi abbiamo in mente l'immagine del latte bianco di mucca, però noi non essendo mucca abbiamo un latte che non è esattamente bianco come quello che nel nostro immaginario dovrebbe essere e questo non significa che il latte è meno nutriente o che è diventato acqua, ma semplicemente che noi siamo esseri umani e non siamo mucche e questi sono due dei più comuni, dei più comuni tra quelli che noi abbiamo sentito nelle donne che partoriscono nel nostro periodo storico, quindi non si tratta di pregiudizi delle nostre nonne, si tratta di pregiudizi di donne che partoriscono nel 2019. Ecco perché questo? Perché c'è questo pregiudizio? Allora, credo che in parte si possa rispondere a questa domanda dicendo che la donna in quel momento vive un momento di grande vulnerabilità e fragilità in cui chiede molti consigli e quindi preda di pregiudizi proprio per una fragilità psicologica, quindi dovrebbe in teoria in un mondo diciamo tra virgolette perfetto avere un contesto di sostegno e di supporto e non una serie di persone che le dicono cosa deve fare. Quindi la donna deve cercare di seguire il proprio istinto, il proprio essere, in questo caso anche mammifero, quindi occuparsi dei propri cuccioli in maniera del tutto naturale e su tutto, e anche l'allattamento fa parte di queste azioni naturali e senza diciamo mettersi in una situazione di grande influenzabilità, diciamo così, proveniente da tutti i parenti, diciamo il parentame che è intorno. Anzi, hanno detto non ansia, magari le nonne appunto dicevano ai miei tempi era, e allora magari una persona donna ancora si carica di paure. Nei vari periodi storici ci sono state diverse convinzioni, alcune magari anche corroborate dall'esperienza popolare, ma altri che poi magari erano esperienze soggettive che si sono poi dopo generalizzate, creando appunto il pregiudizio falso. Quindi vale la pena sempre avere un'esperienza e non mai basarsi su quello che mi ha detto la mia amica, che se bevo la birra e l'impuso di finocchi oppure... Dipende, il latte può cambiare il sapore, insomma. Sì, sì, anche quello, cioè diciamo sull'alimentazione, che il latte possa poi cambiare il sapore in base a quello che la mamma mangia. Ovviamente è vero solamente in una piccolissima parte, è quasi impercettibile da parte del neonato. Poi lì ci sarebbero altri pregiudizi da tirar fuori, perché noi pretendiamo che magari poi dopo da bambino mangi tutto, però poi nella fase dell'allattamento però la mamma non può mangiare niente, perché se no si inquina il sapore del latte. Ma ripeto, il latte materno non è il latte di mucca, cioè questa è proprio una vera e propria idea, diciamo, che abbiamo noi sbagliata. Tu, oltre a scrivere questo libro in collaborazione, come mi raccontavi, con il primario di Nottola, o comunque questo gruppo di peer formato proprio a Nottola, giusto? Sì, il gruppo delle peer counselor è un gruppo di mamme volontarie per l'allattamento al seno, che sono state formate a Nottola, dall'ospedale di Nottola, che è un ospedale amico del bambino, e quindi c'è un gruppo di formazione di medici che si occupa proprio di questo. Il gruppo, appunto, di mamme risponde alle richieste che via via le donne che chiedono aiuto possono avere. E il dottor Civitelli, la dottoressa Canocchi e il dottor Igino Gianni mi hanno supportato, poi può darsi che mi dimentico qualcuno, per questo chiedo scusa, comunque mi sono stata supportata dal team dei medici di Nottola, sia per la supervisione sulle verità che sono state poi scritte, sia poi per proprio partecipare a questo corso di formazione e poter poi dopo essere definita una delle mamme peer counselor, appunto. Quindi c'è una lista, diciamo, di mamme che rispondono, diciamo, al telefono per aiutare le donne che sentono il bisogno di chiedere aiuto, supporto, consigli. Poi c'è tutta la parte delle ragadi, quindi vengono comunque le donne accolte e supportate anche da un punto di vista fisiologico, dalle ostetriche e dai medici. Un'altra attività che tu hai raccontato in un altro libro, che non abbiamo qui oggi, ma che prima nel backstage mi hai un po' parlato e che tengo appunto a parlarti e a chiederti, è l'attività di clown terapia. L'attività di clown terapia che mi dicevi tu personalmente ti sei formata a Roma, ma l'avete in qualche modo anche attivato a Nottola, giusto? Sì, sì, allora, questa fa parte, è una parte di me, la comico terapia e il portare humor nel mio lavoro di psicoterapia. La comico terapia c'è anche un po' in questo libro, perché il libro non è un manuale, ma vuole essere un libro molto fruibile da parte delle donne, e di chiunque lo voglia sfogliare. Quindi, diciamo che alcuni pregiudizi rasentano il comico, ma comunque io ho cercato di renderlo il più possibile ironico, perché immagino che comunque un pizzico di leggerezza in questo argomento, come in tutti, forse, gli argomenti in tutti, proprio gli argomenti per i quali si chiede aiuto, renda il tutto più leggero e quindi più vivibile. E quindi, sì, la comico terapia fa parte della mia formazione, io cerco di riportarla in varie forme nel mio lavoro. E anche quando ero più giovane facevo il clown dottore negli ospedali, quindi conosco e capisco l'importanza del buon umore, soprattutto nelle situazioni in cui è difficile ridere. E questo è comunque un altro argomento, ma è molto importante dare il giusto valore alla risata, alla fumicità, che appunto è una cosa molto seria. Che poi comunque in questa realtà sorridere e ridere fa aiuta e fa bene, fa star bene. Certo, assolutamente, perché l'ansia è una brutta alleata, anche nell'allattamento, in qualsiasi problematica si tratti. Quindi sicuramente riuscire a vedere la realtà da un punto di vista più ironico, oppure anche comico, può servire moltissimo, a volte può essere anche risolutivo addirittura, secondo me. Un'ultima battuta prima di chiudere, tu hai fatto, hai scritto un altro libro che va un po' al di là di questi argomenti belli, interessanti e avvolti nei pregiudizi. Trovare l'anima gemella con un click. Mi dicevi, questo è stato il tuo secondo libro, giusto? Sì, questo è il libro più comico, in assoluto, nel senso che... Rimaniamo in tema humor. È un libro sicuramente che ho scritto un po' per divertimento, cercando di trovare, di descrivere vari personaggi, quindi, che si possono incontrare in chat, e cercando anche lì di fare, di scrivere qualcosa che fosse a metà strada tra un qualcosa di molto comico e un qualcosa anche di vero, non di serio, ma di vero. Quindi, sì, quello è il libro che ho scritto divertendomi molto, descrivendo questi incontri in chat. è un libro autobiografico, quindi io comunque ho descritto le mie esperienze, le mie molte esperienze, quindi i vari tipi di incontri che negli anni ho fatto. Il libro è un po' datato perché non contempla, appunto, come dicevo prima, non contempla Facebook, che è una realtà importantissima al giorno d'oggi, ma comunque diciamo che più o meno l'incontro in chat e vari personaggi, non credo che siano cambiati molto, ecco. Una domanda per lanciare poi il sentiero dell'acqua di Sinalunga, che stiamo portando i nostri social spettatori e telespettatori alla scoperta di questo sentiero dell'acqua di Sinalunga. Bere molta acqua ovviamente fa bene all'allattamento, mi riallaccio al tuo libro iniziale. Assolutamente, sì, nel libro c'è anche... Un pregiudizio sull'acqua. Su quello no, però c'è descritta la leggenda delle pocce lattaie, che ha a che fare con l'acqua sul furia, che non è la stessa cosa, ma comunque è sempre acqua, perché l'acqua è magica, è considerata magica, quindi nel caso della leggenda delle pocce lattaie, l'acqua comunque doveva significare, diciamo, la donna si ricava alla Madonna delle pocce lattaie per chiedere la grazia, quindi di avere latte, bevendo una goccia di acqua sul furia. L'acqua poi in generale, comunque la donna che ha il latte, ovviamente deve reintegrare i liquidi, quindi è meglio che beva acqua e non birra, come si dice in alcuni pregiudizi. Allora, io Danila ti ringrazio per essere venuta qua, per averci parlato di questa importante realtà che è doveroso parlarne proprio anche per fare da veicolo a chi ne ha bisogno, che mi rendo conto che sono argomenti difficili e pregiudizi a volte è molto difficile superarli se non c'è qualcuno dietro che ti aiuta. Proprio perché l'acqua è magica, noi vi portiamo a scoprire il sentiario dell'acqua di Sinalunga con Gianfranco Cenzini, quarta puntata di questa magica acqua di Sinalunga. Questo pozzo, come vedete, nella parte bassa c'ha molti scavernamenti, si dice così, andando verso l'alto, siamo a 28 metri sotto il pavimento della chiesa di Santa Croce. Successivamente è stato realizzato questo cunicolo che porta l'acqua fuori e qui l'acqua non è più salita più di quel livello che vediamo adesso, quindi il pozzo come tale non è più stato utilizzato per prendere acqua e quindi piano piano è stato chiuso il suo accesso superiore e l'acqua è sempre stata presa dalla fonte esterna. In epoche remote questo pozzo era pieno d'acqua, era pieno d'acqua e l'acqua, quando prendevano l'acqua con i secchi, le onde che faceva il secchio nel battere sull'acqua e nel tirarlo fuori, facevano sì che sulla sponda venisse una sorta di erosione, come lo vediamo anche adesso a livello dell'acqua attuale. Quindi questa erosione della sponda, del bordo del pozzo, è la testimonianza del livello che poteva raggiungere. Naturalmente una volta fatto il cunicolo, qui l'acqua se sale va via, quindi non è stato più possibile da quell'epoca lì poi prendere acqua con i secchi da qui dentro. Quindi a un certo punto era inutilizzato e lo hanno chiuso da sopra, però è rimasto sempre un pozzo utilizzato da sotto, cioè come opera di presa. Il fatto anomalo che questo cunicolo sia stato realizzato per portare l'acqua da un pozzo interno al castello verso una fonte esterna, nell'epoca medievale non è che fosse tanto normale portare un bene prezioso come l'acqua dall'interno all'esterno, ma probabilmente quella lì fu una scelta obbligata, perché se è vero che in questa falda acquifera presente in questi depositi vi era stato un calo di quantità di acqua disponibile, a un certo punto avranno cercato di trovare un'alternativa e quindi scavando questo cunicolo sono andati a prendere tutte le piccole venute d'acqua che potevano trovare lungo la strada. Uno studio recente di alcuni climatologi americani fa vedere che proprio in quell'epoca lì si raggiunse il picco massimo del periodo caldo medievale. Il periodo caldo medievale raggiunse il massimo tra il 1200 e il 1300, quindi probabilmente questa è la conferma che in quell'epoca c'era una siccità notevole e quindi l'acqua qui non era più sufficiente, questo pozzo non dava più l'acqua necessaria al fabbisogno del castello e quindi quest'opera ne è la testimonianza, mentre in epoche più antiche, come si vede dagli scavernamenti sulle pareti del pozzo, questa quantità d'acqua era abbondante e poteva essere sufficiente per tutto il paese. Successivamente, intorno al 1600-1700, si ebbe un periodo freddo con una mini glaciazione e probabilmente quest'acqua non è ritornata a livelli superiori perché avevano realizzato questo cunicolo, quindi anche se la chiusura non è mai stata riaperta nonostante l'acqua fosse di nuovo aumentata. Questa è una considerazione di tipo climatico che si può fare considerando l'insieme delle cose che abbiamo potuto vedere da questo cunicolo, cioè una sua storia molto antica che probabilmente parte dall'epoca romana e una modifica in epoca medievale e poi dopo fino all'attuale che è sempre presente come sorgente in grado di dare una certa quantità di acqua quotidianamente. Bene, a questo punto ritorniamo indietro. A questo punto torniamo indietro, possiamo vedere l'altro ramo più piccolo che è scavato sicuramente in tempi più recenti. Eccoci di ritorno dalla quarta puntata del magico sentiero dell'acqua di Sinalunga. Nel frattempo ci è venuto a trovare un altro personaggio che anima la valdichiana. Lui è Nicola Nucci, scrittore, finalista del premio Italo Calvino 2018, nonché sceneggiatore, è partito dal teatro, sta andando verso il cinema. Insomma, anche qui abbiamo una mente interessante da scoprire e un personaggio da raccontare. Nicola, benvenuto qua nella villa di Leonardo. Allora, prima di andare a raccontarci storie in diretta qua a D'Amblè su due piedi, io mi vorrei soffermare su questo. Trovami un modo semplice per uscirne, che è il tuo libro, il tuo primo libro, giusto? Sì, è il mio primo romanzo e niente, lo stiamo portando in giro, sta piacendo, è arrivato in finale al premio Italo Calvino, che è il premio più importante per opere prime e niente, ora lo stiamo portando in giro e speriamo bene. Di cosa parla? Anzi, la prima domanda è, al tuo libro di esordio, la tua opera di esordio, pensavi di arrivare in finale di questo, insomma, importante premio? Sì, allora, non è che si arriva al premio Calvino di punto in bianco, succede un passo per volta, chiaramente io sono partito dai concorsi un po' meno importanti, arrivato comunque a dei buoni risultati a quelli, ho proseguito aumentando sempre il livello fino ad arrivare al più importante, al più importante che è il premio Italo Calvino e partecipare è stato un po' un'incoscienza, perché abbiamo partecipato con un romanzo totalmente dialogato, ambientato nella nostra zona, anche se poi si capisce solo in parte, era un obiettivo, non era semplice, anche perché era dieci anni che nessun toscano ci arrivava e niente, ci siamo arrivati con un po' di fortuna, come è normale che sia, però, insomma, diciamo che l'obiettivo era quello. E allora io ti faccio una domanda per parlare di questo libro, cosa possono fare due ventenni annoiati in una settimana di ferie? Allora, possono venire qui... Oltre a venire ovviamente alla villa di Leonardo, oppure guardare Giardino Valdichiana seduti nel salotto di casa. Oppure, se sono talmente scontenti della loro esistenza, possono anche fare una rivoluzione, però devono sapere che il mondo di adesso non prevede rivoluzioni alla Robespierre, ma rivoluzioni televisive, rivoluzioni filtrate, rivoluzioni social, e quindi le loro rivoluzioni saranno differenti da quelle dei loro genitori e dei loro nonni. E di quale rivoluzione stiamo parlando in questo libro? Allora, in questo libro vediamo che è un dialogo. Totalmente dialogo. Quindi comunque non è semplice fare un dialogo di ben 170 pagine, giusto? Eh no, non è semplice. Chiaramente c'è il rischio di annoiare. Il fatto che non annoi è semplicemente perché non è un dialogo vero e proprio, ma è una mescolanza di generi, tra la chat moderna, il teatro e lo slang giovanile. E niente, non è semplice. Ci abbiamo provato, però si parla di una rivoluzione che è appunto una rivoluzione moderna, perché loro hanno una mentalità moderna, sono due ventenni scontenti della propria situazione lavorativa, che maturano dopo aver capito che il disagio che li attanaglia è purtroppo perenne di dar vita a questa rivoluzione, che è una rivoluzione semplicemente moderna. E tutto il romanzo verte su loro due che cercano di fare la rivoluzione. Bisogna capire se la faranno o non la faranno e cosa intendono loro per rivoluzione. Allora, ovviamente noi non diciamo altro di questa rivoluzione perché dobbiamo leggere il libro. Ma io rimarrei proprio su questo tuo mistero che ci hai un po' introdotto nel dirci e non dirci se questa rivoluzione ci sarà o non ci sarà. Il nostro filo conduttore del Giardino Valdichiana di quest'anno è appunto un po' il mistero, il mistero che gira intorno a questa villa, il mistero che gira intorno al personaggio di Leonardo, perché sappiamo che Leonardo è fonte di ispirazione di molti testi letterari, non solo dal punto di vista storico che raccontano che cosa ha fatto Leonardo, ma ha ispirato anche molti romanzi dove appunto lui è il protagonista come personaggio appunto misterioso. Se io ti do tre parole sul momento proprio, ovvero mistero Leonardo da Vinci, perché è il grande protagonista di questo giardino Valdichiana, e Valdichiana. Tu che cosa mi dici, che cosa mi racconti se dovresti fare una storia con questi tre elementi? Sì, partiamo da Valdichiana. Valdichiana è la nostra terra, è la terra di noi che parliamo e anche dei due protagonisti. E quindi la Valdichiana alla fine è la nostra radice, forse in parte potrebbe essere anche la nostra condanna, perché comunque sia i due protagonisti sanno benissimo che la Valdichiana o la nostra terra, o il proprio io, sono di fatto limitanti nei confronti di una cultura mediatica moderna. E loro non sono chiaramente Leonardo, non sono dei geni, sono semplicemente dei ragazzi normali, che non hanno ambizioni elevatissime, se non quello di vivere delle proprie passioni e dei propri hobby. di fatto li cercano in tutto il romanzo, cercano una propria via nel mondo. E il mistero forse è proprio quello di trovare la via giusta per ognuno di noi, come per i due personaggi, e intraprenderla prima di bruciarsi, prima che sia troppo tardi, e prima che non sia per forza un modo semplice per uscirne dal tram tram di tutti i giorni. Prima con Danila abbiamo parlato anche in maniera frettolosa comunque del ruolo dei social, delle chat, di Facebook, Instagram, di tutto quello che ci circonda, e che i protagonisti del tuo romanzo ovviamente ne fanno uso come tutti noi. Secondo te, se Leonardo da Vinci avesse a che fare con il mondo social, come si rapporterebbe con loro, con lui, con questo mondo? Allora, semplicemente si adeguerebbe, perché come tutte le persone nati al giorno d'oggi, che inizialmente partono con delle remore nei confronti dei social, poi piano piano vedono scretolarsi i propri principi. E quindi sicuramente Leonardo, nato negli anni 90, o comunque figlio degli anni 10, questi attuali, sarebbe sicuramente su Facebook, su Twitter, su Instagram. Magari con un look differente. Secondo me tirerebbe fuori qualcosa interessante su Instagram. Sarebbe in grado di sorprenderci anche su Instagram. Sicuramente, sicuramente. Allora, tu e i tuoi personaggi come si rapportano con i social? Abbastanza conflittuali, perché praticamente loro parlano di rivoluzione in uno scantinato, perché loro appartengono a un collettivo alternative culturale di provincia che perde mano a mano, che gli anni passano pezzi, e rimangono solamente in due a fare la rivoluzione. Loro sono in uno scantinato, e quindi di fatto spesso, proprio nel fluire del romanzo, si arrabbiano perché la linea è un po' lenta, come succede a volte nella nostra zona. E quindi di fatto loro sono figli dei social, sono figli forse anche di un malcontento generazionale, e si rapportano ai social con disdegno, ma poi alla fine anche con tolleranza e quasi con sognante speranza che possano dargli un modo semplice per uscirne. Anche perché loro, leggendo un piccolo dialogo del tuo libro, leggo, ricchi, famosi, come quegli youtuber che... Quindi, comunque sia, anche qui, gli youtubers entrano di prepotenza in questo romanzo. Sì, perché essendo due ventenni attuali, il loro sogno chiaramente non è il sogno dei loro genitori, che è quello di fare una rivoluzione vera e propria. Il loro sogno è semplicemente quello dei ventenni attuali, cioè quello di arricchirsi facendo meno possibile. E quindi gli youtubers sono sicuramente un esempio valido. E loro prendono esempio i personaggi della televisione, non Robespierre, che è il rivoluzionario più famoso. Tant'è che la loro rivoluzione è figlia di questi tempi, ma di fatto è un girare a vuoto nella stessa stanza e alla fine forse è proprio il canto disperato della loro generazione. E secondo te il personaggio più rivoluzionario della televisione attuale chi è? Non lo so, forse Morgan, però non lo so. A volte succede che quando uno è troppo rivoluzionario, succede che a volte si brucia anche quelle stesse mani. Questa è una giusta osservazione. Tu mi dicevi che hai avuto a che fare con il mondo teatrale della Valdichiana. Noi come Valdichiana curiamo appunto una rubrica che è Valdichiana Teatro, sempre molto apprezzata. Cerchiamo di promuovere tutte le realtà territoriali legate al teatro, che sono veramente tante e che rappresentano un po' un fiorell'occhiello del nostro territorio. Fanno comunità, come abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, aggregano e regalano a tutto il pubblico della Valdichiana un importante bagaglio culturale. Tu sei partito dal teatro per arrivare al cinema. Di solito tutti ambiscono al cinema, ma poi arrivano al teatro. Perché questo percorso? No, sinceramente il teatro credo sia bellissimo, sia un incanto. Lavorare per il teatro è bellissimo, forse è molto più difficile del cinema. Il teatro richiede uno sforzo molto più grande. Però di fatto nel mio caso c'è stato soltanto un processo di evoluzione. Sono partito dal teatro, poi comunque sì, ho avuto proposte differenti e quindi sono andato verso il settore del lungometraggio più per le proposte altrui che per una scelta personale. Ecco, questo qui. Però il teatro rimane il primo amore. Non si scorda mai il primo amore, no? Prossimi appuntamenti. C'è già un altro romanzo in cantiere? Oppure, visto che tu comunque sei anche sceneggiatore, se ci regalerai presto una sceneggiatura per un film, un cortometraggio? No, no, no. Sto lavorando a un lungometraggio. Praticamente ho scritto una sceneggiatura che poi è stata presentata per la richiesta degli aiuti statali al Ministero dei Beni Culturali per poi fare il film con i soldi appunto del Ministero. Poi oltre a questo... A questo punto dici qualcosa di questa sceneggiatura? Sì, è una cosa... È un giallo camuffato di fatto, è comunque un giallo molto psicologico. Quindi va un po' al di là di quello di questo... Sì, sì, non c'entra niente, sì. E niente, poi per quanto riguarda il libro, attualmente a livello di narrativa non sto scrivendo altro, però con questo libro siamo in concorso a alcuni tra i premi più importanti, il Massarosa e il Viareggio e lo portiamo un po' in giro, siamo in tour, andiamo un po' dove ci chiamano, faremo Rieti, Perugia, faremo un po' tutto, quello che c'è da fare e niente, vediamo. Quindi possiamo dire che la tua rivoluzione è iniziata? Eh, la rivoluzione, diciamo, è stata questo libro, forse è stata una rivoluzione. E allora, sempre avanti così, Nicola, perché ovviamente come molte realtà del nostro territorio sei una bella risorsa che porta alto il nome della Valdichiana in tutta Italia. Grazie. Grazie, Nicola, di essere stato qua con noi, di essere venuto a trovarci qua alla Villa di Leonardo e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Giardino Valdichiana. Grazie di essere stati con noi, di averci seguito e noi tutte le volte in quest'aula aurea di mistero vi regaliamo storie concrete e vere qua alla Valdichiana, al Giardino Valdichiana. Ciao a tutti!